16 ah ok allora non vinciamo per punti vabbè vinciamo per tempo questo che mi corre dietro dai oh non ti accollare fottio la gente che si accolla quando gioco pubblico mi guarda mi viene vicino mi accoltella poi mi sessione nelle partite io ti ho giocato invisibile e io sono te come sono ora io ogni volta non lo faccio mai perché ho giocato invisibile assolutamente e vai vaffanculo che mi ha ucciso andresette ma è un tuo amico non lo so no no ma non mi sessionano gli amici andresette è italiano è italiano solo con il cecchino silenziato a jump shotare questo qua e non lo vedi però perché sicuramente è lost comunque dimmi quello che vuoi paolo ma secondo me qua paolo secondo me c'è la condizione si sente più qua che su black group no no quasi sento di meno non si sente di più perché si shotta troppo quindi boh io non la c'è la sento poco perché tanto shoti veloce quindi non tenendo un fa in tempo da con c'è per niente non te ne accorgi in verità ma il fatto che non ti accorgi magari dell'ac per chiamati subito si e tu mori subito capito ma quello è normale quando non c'è così comunque la vita su veterano in sto gioco raga torno subito culo e merda mori cecchino del cazzo te lo fecchi in culo troia di merda a me fanno rosicare alcune foto che c'ho quest'arma del cazzo che da due colpi uccide fai fai un danno alla community a dire che a dire la classe domani sinceramente no ma io faccio tutto io faccio cioè tutte le cose che scopro le rivelo tanto primo paio scopre qualcun altro non c'ho più colpi dieci colpi c'è uno la destra vai valox vai vai quello andrea 7 che immortale è proprio connessionato quello la è cioè qua si sente proprio la connection del fatto che esce già sta sparando non c'ho colpi oh andrea 7 ha fatto la one day cap quanto di nuovo ma ti è sicuro c'è sto ok nella ticlant allora potrebbe venire un ex user under è un altro è andrea con la h tutti a destra stanno passando abbiamo appunto assolutamente noi no vedi no non puoi non puoi non puoi fare queste cose che li mangi i colpi non possiamo perdere così ma quanto cazzo è brutta il shock mamma mia vieni qua vieni qua velox dai il world championship lo giocano su questo gioco di merda eh vale quello la cannavo solo su 2 eh siamo agli scoccioli ma li provate dove dovrebbe partire ma ti farà su xbox one o tutte le testate one 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 ma tu come pensi di abituarti al joystick comunque se passate da uno scoff che ha i pezzi analogici mi ha caduto kill alla cam una ce l'ho lo tiratelo lo tiratelo lo tiratelo godo puttane me cazzo fai nooo mo si vede l'esplosione della cosa guarda c'è quante che mi hai tirato quante che mi hai tirato non no